Ok, allora benvenuti all'estruzione di scripting con ChatGPT. Come ho detto prima, nel gruppo Facebook, il ChatGPT lo userò per farvi vedere come si può costruire semplicemente un script, però script semplici per tutturare, per imparare all'inizio, molto semplici, fa anche bene ChatGPT, ma altrimenti bisogna comunque avere un po' in azione. Quindi, per esempio, questo qui è uno script che ho fatto, che semplicemente quando clicco, vedete che si sente anche un suono, ma che voi non si sentite, quindi si illumina una texture e poi clicca un'altra, inverto le texture, quindi questa, faccio questa, poi clicco qua, vedete che praticamente spingo in quel posto la texture, e questo è uno speciale giochino, è uno script. Ora, per fare questo, ad esempio, è uno script abbastanza semplice, cioè semplice, non è proprio semplice, ma comunque lo script che fa questa cosa, lo vediamo praticamente nel contenuto, è questo new script, e questo script l'ho dovuto sostanzialmente scrivere io, per la mia esperienza di script, e poi l'ho fatto controllare, mi sono fatto dare alcuni aiutini da ChatGPT per metterlo a punto. Però, la cosa fondamentale, in particolare, l'uso giusto dell'Lset Link Primitive Params Fast, che vi è suggerito anche da ChatGPT, però lo suggerisce abbastanza sbagliato. Questo sia per associare la texture, sia anche per fargli fare il glow dell'oggetto. Quindi, in realtà, queste funzioncine qua, abbastanza semplici, dovete costruirvele voi, e poi eventualmente gli dite, guarda, c'ho queste funzioni, e orchestra mele. Allora, una volta che gli si chiede di orchestrare delle cose già fatte, riesce molto meglio. Però, partiamo dall'inizio. Ora, vogliamo fare un semplice script. Il script più semplice è quello che vi fa lui. Quindi, voi create, praticamente, un oggetto per terra, quindi... Sì, quindi, praticamente, dovete fare in modo tale da avere la bacchetta magica, questa, e quando cliccate per terra, compare un cubo. Dentro il cubo, fate tutto a destra, questo, oppure girate questo finché non arriva al content, e a questo punto c'è il new script, potete fare il new script, e compare uno script. Lo script iniziale, è uno script basilare, che, se vediamo, praticamente dice semplicemente che lo script sta funzionando, quindi ll6, 0, script running. Il significato esatto di tutti questi termini è un po' complicato, però, comunque, ll6 vuol dire che dice sul canale 0, che sarebbe quello su cui si chatta, quindi, praticamente, dice in chat questa stringa. Le stringhe sono delle parole raccolte con... cioè, che stanno in mezzo al doppio appiccetto, ed è un modo abbastanza standard di fare gli script, in java, o in ci, ad esempio, no? Lo script intero è di solito contenuto dentro un blocco, la matrioshka, che si chiama default, che inizia con una graffa, e finisce con una graffa, e dentro c'ha di solito degli stati, che definiscono cosa fare, in questo caso cosa deve fare quando inizia. Quindi, quando inizia, lo state entry, che è lo stato iniziale, praticamente inizia e finisce qua, e dice semplicemente che deve fare script running. Se abbiamo lo script, in questo oggetto, possiamo sempre fare il reset dello script, quindi il reset dello script lo facciamo, per esempio, tasto destro, tasto destro, e poi scripts, e poi facciamo ad esempio il reset scripts, e lui chiede conferma per fare lo script, prima volta vi chiede conferma in più, e poi quando si fa il reset, praticamente lo script riparte da zero, e dice script running. Ora, vediamo un attimo cosa ci può dire diciamo jgpt, jgpt 3.5, quindi quello free, se gli scrivi di fare, se voi gli chiedete di fare uno script lsl, per open sim, con il motore y engine, che è il nome del motore, e per fare un hello world, hello world, vuol dire hello world, mettiamo ancora in più, cioè se è cliccato, se lo clicco, quindi se lo clicco, deve, se lo clicco, dovrebbe, vediamo un po' se mi capisce, e facciamo via, e già non sei capito, mostra hello world quando ho cliccato, ok, vedete che lui usa un commento, barra barra, che dice script hello world, mostra hello world quando ho cliccato, quindi, qui vedete che è sbagliato, in realtà questo set entry non è inutile, e quello che importa è il touch start, integer total number, quindi qui dice quante volte e quante persone l'hanno toccato, comunque se qualcuno l'ha toccato, parte il touch start, e fa ll6, quello che avete visto prima, dentro il nostro mondo, quindi, se vogliamo fare questo script hello world, lo prendiamo, facciamo ctrl c, andiamo dentro il nostro oggetto, qui c'era il nuovo script, facciamo doppio clic, e selezioniamo, cancelliamo tutto, ctrl v, incolla, e in realtà questa release non è importante, quindi lo togliamo, magari possiamo anche semplicemente togliere il contenuto, poi facciamo save, e abbiamo fatto il nostro primo script, che è stato costruito da chat gpt, dove avete visto, abbiamo tolto un po' di cose che non c'entrano niente, quindi, se facciamo save, mi dice compilato, quindi facciamo x e x, in modo tale da avere, ecco lo script, vedete quando ci passa una manina, diventa la manina, che vuol dire che posso cliccarlo, cioè se lo clicco, succede qualcosa, quindi lo clicco, ecco vedete che dice hello world, potete fargli dire anche qualunque altra cosa in italiano, ma noi adesso andiamo di nuovo, diciamo, fammi uno script, che cambia colore ogni volta che viene cliccato, usando colori casuali, adesso vediamo se è capace, c'è il gpt35, di farlo, quindi gli ho chiedo, e poi lo controllo, allora qui ho fatto lo stesso errore, l'elisten, non c'è bisogno, perché l'elisten è un comando che si usa, non tanto per ottenere il clic, vi vedete se c'è questo, ma per poter fare un ascolto, cioè se ascolta qualcuno che parla, ma nel caso di fare un clic basta il touch start, ok, quindi cosa deve fare al touch start? deve generarmi la quantità di rosso, di verde e di blu, quindi mi fa tre funzioni casuali, tra 0 e 1, poi sette il colore dell'oggetto in cui è impostato, a questo valore casuale, all sides e tutti i dati, e poi dice il colore è stato cambiato, quindi noi possiamo prendere questo script, quindi facendo il copy code, lo prendiamo qua dentro, facciamo edit, selezioniamo lo script precedente, contro la, cancella, gli mettiamo lo script nuovo, in cui sappiamo che questa parte è inutile, ma per il momento lasciamo, non fa neanche danno, quello che importa è quello che fa quando la touch start, quindi facciamo save, save complete, l'attenzione è che se per caso vi ho dimenticato qualcosa ci darà degli errori, quindi facciamo, tra le più dimentichiamo un punto virgola, e lui ci dice tutta una serie di cose, ci dice qual è la riga in cui c'è secondo lui il problema, in realtà la riga è quella precedente in cui ho dimenticato un punto virgola, qui stessa cosa, se dimentico di chiudere una parentesi, o lo dimentico a chat zbt, ottengo un'altra seduta, premature expression end, cioè è finita troppo presto, faccio, gli metto la parentesi che mancava, faccio save, finché non mi dice che è a posto, allora a questo punto chiudo, chiudo, clicco, allora se clicco, praticamente vedete che è diventato viola, e nel frattempo mi sta dicendo il colore è stato cambiato, se clicco ancora, me l'ha fatto un viola un po' più scuro, se clicco me l'ha fatto verde e così via, ora è possibile creare su gpt anche discussioni, nel senso che gli si può dire di dire fa, dunque, non c'è bisogno del primo l listen, perché in second life o in open sim, i touch sono già disponibili da subito, no? e inoltre dico, inoltre vorrei che mi scrivessi quale colore, nel senso rgb, rgb, hai cambiato, in modo tale che, e poi gli diciamo, puoi riscrivere lo script, ok? Quindi certamente lui dice, ok, a questo punto gli avete insegnato che rgb, cioè che non c'era più bisogno di fare il l listen, ecco, perché il touch è disponibile da subito, e inoltre dice, ho aggiunto, il fatto di cambiare e di dire quale colore sta visualizzando, quindi copiamo questo codice, andiamo in open sim, facciamo il solito edit, quindi gli cambiamo lo script, ok, vedete, dice come è stato cambiato, e quanto il percentuale di rosso, di verde e di blu c'ha, quindi facciamo save, facciamo x, x, quindi a questo punto, cliccando, facciamo un click, e lui dice, ok, abbiamo messo 0,58 di rosso, 0,29 di verde e 0,21 di blu, quindi essenzialmente un rosso, perché c'è un po' di più della metà, del 50% di rosso, e però un rosso un po' sporco, quindi se io lo clicco ancora, magari, ecco, vedete, questo qui è diventato, tra rosso e verde, quindi un arancio, in qualche modo, però c'è anche del blu, quindi è diventato questo, e così facendo, praticamente, ho ottenuto, praticamente, un qualche cosa che cambia colore, ogni volta che lo clicco. Ora, è importantissima questa storia di CERC-BT, perché posso dirgli di fare anche altre cose, ad esempio, se volessi, fammi uno script che posso usare come timer, ecco, voglio costruire un timer, quando lo clicco, parte un timer, virgola, dopo 10, 20, 30 secondi, mi avverte che stanno passando i secondi, e poi, dopo un minuto, mi dice, mi dice che il timer è finito. Ecco, voglio fare un timer, cioè una cosa che praticamente mi dica, quando lo clicco, poi mi avverte ogni tot secondi che sta passando il tempo, e quando è finito il secondo, mi dice che il timer è finito. Ora, scrivere un script del genere non è complicato, però è il tipo di cose che probabilmente vi farà perdere un po' di tempo. Se io facciamo scrivere a lui, sempre nell'ipotesi che lo scrivi giusto, sembra che a di lì potrebbe, ecco, vedete, lui si è creato un timer, un evento timer, non è una cosa banale, è una cosa di cominciare a gestire i timer, però lui ha settato un timer ogni 10 secondi, ogni 10 secondi, lo dice, avvia il timer ogni 10 secondi, ogni 10 secondi, va a vedere quanto tempo è rimasto, quanto tempo è passato dall'iniziale, dal momento iniziale, dal tempo attuale meno il get start time, mi dice che sono passati i tot secondi, se sono minore di 60 mi fa questa scritta, e tanto l'owner 6 lo dice soltanto a chi ha cliccato, l'owner dell'oggetto, se si vuole avere una scrittura su tutti, basta fare l'l6 qua, se invece è finito il timer, deve dire il timer è finito, eventualmente gli possiamo anche far dire un suono, e poi spegne il timer, ecco, tutte queste cose sono cose abbastanza ovvie per uno script, per chi sa scriptare, ma non è detto che io me ne ricordo, soprattutto non riuscirei a scriverle così velocemente, è chiaro che devo controllarmene un attimo, quindi facciamo, cancelliamo questo script, gli mettiamo lo script che c'è altro lui, facciamo il save, vediamo che, ecco, lll get start time, è il momento giusto, cioè nel senso per dire che ha fatto un errore, lll get start time non esiste, quindi cosa succede a questo punto? Io devo tornare in chat GPT, e gli devo dire, lll get start time non esiste, quale funzione di lsl esistente posso utilizzare? a questo punto lui dice effettivamente non era quello giusto, provo un'altra volta, quindi mi dice ad esempio, usiamo il get wall clock, vediamo se funziona, quindi get wall clock, per essere sicuro che funzioni, facciamo la ricerca, lll get wall clock, la mettiamo qua, e vediamo se effettivamente in second life, lll get wall clock, ecco il tempo in seconda dalla mezzanotte, quindi dice praticamente sta facendo qualcosa che sembra simile a quello che facciamo noi, ma non potrebbe funzionare, ma potrebbe funzionare, quindi ripartiamo da questo, facciamo copy code, lo torniamo qua, facciamo ctrl A, ctrl B, e quindi facciamo save, ok, qui mi da un errorino, quindi qual è l'errorino? che dice che bisogna fare il cast all'intero, questo vuol dire che questa differenza è un intero, ok, perfetto, però cosa succede? che l'upside seconds è un intero questo, ma probabilmente dobbiamo fare un float to int, sì, dobbiamo praticamente fare il cast, fare il cast fra float to int si ottiene, per esempio prendendo l'espressione, oppure facciamo semplicemente, facciamo il float di brutto, e vediamo se ce lo prende, niente, timer start, lll get wall clock, vedete che è l'integer, e noi lo mettiamo magari come float, float vuol dire che un numero, perché lll get wall clock, torno è un float, e timer a questo punto facciamo anche lui, il float, così simuliamo il tutto, ah, il timer, lllset timer event, se lo mette praticamente dentro, dentro questa cosa, qui non c'è in realtà bisogno, lllset timer event, ci dice un timer, ah sì, dobbiamo spegnere, quindi dobbiamo, ah sì, no, quello deve essere un integer, probabilmente sì, quindi timer, perché deve essere un integer, lo scopriamo, gli serve questo perché, ah no, non serve in realtà, quindi possiamo togliere, possiamo togliere questa cosa che lui ci ha messo, lasciare il float a timer start, ok, timer start viene inizializzato al tempo d'inizio del timer, e poi lui fa, ogni volta si prende di nuovo il get wall clock, gli toglie il timer start, divide per mille, facciamo un save per prova, ok, l'ha fatto, vedete che c'è sempre qualche aggiustamentino, da fare, in questo caso, lllget wall clock, lo sappiamo che torna un float, perché, la documentazione di lll, lllget wall clock, dice che torna un float, ok, quindi ecco perché, ho dovuto fare questo, questo errore, c'è questa correzione, questo errore, come ho detto varie volte, c'è il GPT, non sa bene le funzioni base, tipo questa, del, dell, lllget wall clock, in questi casi conviene magari degliere, ad esempio, una volta individuato la funzione, la si dà a lui, e lui capisce, cioè proprio si fa, io di solito faccio controllare, e poi gliela passo, prima di chiedergli, così lui capisce, come funziona, la funzione, particolare, quindi, è capacissimo a leggere un manuale, quindi per esempio, anche un manuale lungo, a questo punto, una delle modifiche, degli ultimi mesi, se prendo il, questo, che abbiamo appena salvato, lo scritto, lo cancello, e quindi proviamo a vedere, se cliccando, dice, timer avviato, e in teoria, se va tutto bene, in questo caso, mi aspetta, che dopo 10 secondi, dovrebbe dirmi, qualche cosa, sembra che non ve lo dica, quindi c'è qualcosa che non vadra, quindi andiamo, effettivamente, a vedere perché, quindi, per vedere perché, uno script, una funzione, si aggiungono, di solito, delle scritte, quindi io scrivo, un LL, owner 6, owner 6, come ha fatto lui, owner 6, e gli dico, praticamente, elapsed seconds, quello che ha fatto lui, per vedere, se chiama effettivamente, il timer, l'elapsed seconds, e poi gli dico, di dirvi, quanti elapsed seconds, sono arrivati, gli elapsed seconds, sono solo di float, abbiamo visto, però noi dobbiamo, castarle a una stringa, perché se no, non funziona, quindi diciamo, elapsed seconds, ok, chi usa il punto virgola, facciamo, save, evitiamo se il timer, funziona, magari il timer, lo facciamo ogni un secondo, giusto per vedere, se funzionerebbe, anche con un secondo, un po' più rapido, a darci, a farci vedere, cosa succede, finiamo questo, clicchiamo l'oggetto, elapsed seconds, vedete, ecco, questo è il problema, cioè che lui, praticamente, divide per mille, e quindi, in realtà, lui pensa che sia millisecondi, ma in realtà, quello che ci dà la getWallTime, è già in secondi, quindi non dobbiamo dividere per 20, questo è il problema, sostanzialmente, per mille, scusate, quindi faccio ancora in edit, vado nello script, il getWallClock, facciamo sempre un secondo, per vedere se sta funzionando, e non gli, non gli dividiamo per mille, perché abbiamo visto, che praticamente sta, se no, non funzionerebbe, perché io aspetto che questo, l'ottiqueta raggiunga 60 secondi, e vedete che lo raggiunge sì, ma dopo, dopo un sacco di tempo, allora, x e x, facciamo ancora qua, timer avviato, e vedete che adesso abbiamo, il timer, che sta andando su, ed è che, certo, impiega, qualche frazione, di secondo in più, di millesimo in secondo, quindi sta contando, deve arrivare a 60, però a questo punto, sta contando molto meglio, di prima, perché siamo sicuro, che sta arrivando, qui c'è un piccolissimo, problema, che dovremmo mettere, uno spazio, dopo seconds, se lo correggo, faccio arrivare a 60, per vedere se, effettivamente, finisce, come 60, ok, ancora 20 secondi, 10, 15 secondi, da da, timer finito, quindi vedete che, ha funzionato, però ho dovuto, dargli un aiutino, quindi adesso, andiamo a correggere, questa cosa, il timer lo facciamo, 10, così avvia il timer, ogni 10 secondi, dov'è? lsit timer, e qui vediamo questo, sono passati i tot secondi, e l'absorge second, sono passati, e l'absorge second, ah, perché era, era, il timer finito, e non so perché, ah sì, perché l'avevo scritto, l'ascritto qua, quindi questo qui, quello che avevo scritto, l'absorge second, lo togliamo, che l'avevo scritto io, ed era effettivamente, sbagliato, quello che mi ha scritto lui, vedete che aveva scritto, il string, era più giusto, aveva messo, gli spazi giusti, ok? quindi adesso mettiamo, invece che 60, mettiamo 30, diciamo che scatta, dopo 30 secondi, facciamo il salvataggio, chiudiamo l'oggetto, in modo da poterlo cliccare, lo clicchiamo, e lui dice, timer avviato, e poi dopo 10 secondi, dovrebbe, eh, dirmi qualcosa adesso, in realtà, eh, probabilmente, non lo dà, giusto, perché non lo dà, perché, eh, avete visto prima, che non sono proprio 10 secondi, quindi, non sta funzionando, però, per farlo funzionare, basta dirgli, eh, timer finito, perché è 30 secondi, ma non ha detto questo, questa cosa, quindi, invece che dire, elapsed second, ok, if elapsed second per 110, questo vuol dire, se il resto della divisione, di elapsed second per 10, vale 0, però, elapsed era un float, quindi, noi dobbiamo, trasformarlo, in un integer, integer, questo dato, per poterlo confrontare, in maniera esatta, con 0, dobbiamo aggiungere questo, quindi, questo punto, mi aspetto, che funzioni, quindi, clicchiamo, ok, adesso, in teoria, essendo fatto, come intero, dopo 10 secondi, dovrebbe, ecco, vedete, perché, ha preso il conto 10.001934, che non è un multiplo di 10, ma, estraendo la parte intera, diventa, effettivamente 10, e quindi, il resto, della divisione, del plot per 10, effettivamente, è utile, ok, 30 secondi, quindi è finito, ora, ultimissima cosa, quando lo script, più o meno funziona, è il momento, anche giusto, è giusto, è un momento opportuno, per, lavorare con, chatgpt, dicendogli, di fare qualcosa in più, per esempio, noi andiamo, sul chatgpt, e diciamo, lo script finale, che sto usando, e, che funziona, e, e gli, faccio il control, gli faccio vedere, quello che ho fatto io, dopo averlo, debuggato, si dice, in termini tecnico, adesso, gli posso chiedere, mi descrivi, cosa fa, questo script, allora, chiaramente, lo sto già, perché gli avevamo chiesto prima, lui, quindi, quando viene cliccato, quindi, gli spiega tutto, ecco, questa è la cosa importante, e cioè, che chatgpt, funziona abbastanza bene, quando ci dà uno script, e gli si chiede, di scriverlo, quindi, lui, dice più o meno, tutto quello che è, con tutta l'aspirazione, ma, soprattutto, possiamo, chiedergli, fa delle piccole modifiche, acciacibitiche, che noi, metterebbero in crisi, quindi, dice, modifica, lo script, aggiungendo, un suono, il, il, play, di, un suono, quando, il timer, è finito, ok, a questo punto, lui, fa, fa tutto lo script, in realtà, lui dice, che, lo fa, eccetera, eccetera, prende un sound, UID, ora, i sound UID, si possono trovare, praticamente, si può cercare, lllplay sound, e ci sono, dei suoni predefiniti, quindi, se noi facciamo, lllplay, aspetta, se ce lo dice qua, e, niente, i sound, già fatti, possiamo vedere, è un po' un casino, trovare, gli UID, già fatti, allora, in quel caso lì, se non si vuole, metterla UID, si può modificare, e mettere un sound, dentro l'oggetto, e poi si dice, di playare, quel sound, faccio solo vedere, perché è carino, quindi, io ho, praticamente, nel mio inventario, un, laser, prendo, laser gun, questo qui, se lo clicco, adesso voi non lo sentite, ma è laser gun, è un rumore, tipo laser, solo per mettere un rumore, no? e prendo, questo cubo, edit, e nel contenuto, ci metto, il, controlli, che era lì, dietro, gli mettiamo il laser gun, ok? ora, potrei metterci qualunque altro suono, e a questo punto, gli dico, gli UID, chiedo un attimo, a, 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 setterno, fai vedere perché la memoria non si ricorda, comunque, e, e, praticamente, se metto un suono dentro l'inventario dell'oggetto modifica il codice in ruono da suonare il primo suono che trova nell'invento dell'oggetto ok allora vediamo un po' vediamo cos'è fatto timer finito over 6 ah ok lll get inventory name inventory sound è 0 e poi riproduce il suono e sia certo che ci sia un solo suono dentro l'inventario ma noi possiamo semplicemente copiamolo tutto e poi lo risistemiamo un secondo quindi copy code lo mettiamo sostituendo qua ctrl v beh potrebbe anche funzionare in realtà tutto questo è anche fin troppo però l'importante è che non di errore quindi facciamo save l'ha compilato a questo punto chiudo l'oggetto e clicco vedete che il timer avviato me lo sto dando a questo punto quando adesso probabilmente nella registrazione ne lo sentite ma mi accerterò che dopo 30 secondi mi faccio sentire il suono e quindi ecco ecco adesso voi non l'avete sentito ma io ho sentito distintamente il laser che ho scattato quindi l'insegnamento se si può dire di questo piccolo video è che potete usare, anzi in certi casi è anche interessante usare cialgpt soprattutto all'inizio per avere un'idea di cosa dovete fare ma dovete controllare tutte le funzioni che usa e soprattutto quando lo script non funziona cosa che avviene praticamente il 90% delle volte e una volta capite quali sono le funzioni che usa vedere se le usate nella maniera corretta per capire se state nella maniera corretta dovete trovare un manuale, una documentazione di quella funzione e poi eventualmente gli date in pasto a cialgpt quel manuale e gli chiedete di essere coerenti con quel manuale basta un copio e incolla ed è sufficiente avere cialgpt gratis 3.5 ok, è tutto buonasera, grazie